il presidente nei giorni scorsi ha parlato in maniera ottimistica di una questione che sarebbe entro dicembre intanto ti vediamo come stanno le cose diciamo che per me il nostro avviso l'ora è in silenzio stiamo sloverando però non vuoi capire ci fermiamo un secondo fermiamoci però è chiaro che la tifoseria chiede delle novità e soprattutto dei chiarimenti tu cosa ti senti dietro? dai diciamo quando c'è qualcosa di parlare quando è finito questo è il primo momento per parlare perché è finito ma è qualcosa di bello per ora non c'è niente di parlare stiamo lavorando seriamente è un momento caricato che voglio arrivare il momento dove diciamo siamo confidenti che che è la prima volta che si può fare qualcosa cosa è cambiato rispetto a un anno fa quando Zamparini ha rifiutato? posso dire che Zamparini troppo con me e in questo trattatore era perfetto lui ha gente che lavorano con lui che sono bravissimi e lui in questi ultimi sei mesi che stiamo lavorando è stato bravissimo allora la spirito è lì fare qualcosa però diciamo ancora niente è fatto però sono contento dove siamo in caso di acquisizione la Zamparini potrebbe rimanere in società grazie a tutti grazie a tutti